Sono Andrea Cecchi e ricopro il ruolo di presidente e CEO della Cecchi. L'aneddoto più carino e storico della famiglia è quello che diceva sempre mia madre, sia la famiglia di mio padre che ha sempre prodotto vino, e mia madre come famiglia era un'importante famiglia che produceva botti e casse di legno per l'esportazione del vino. Dopo la guerra l'azienda di mia madre venne a essere chiusa per azioni belliche e mia madre quindi sposandosi con mio padre diceva sono caduta dalla botte al vino. Sono agronomo, mi piace vivere tutto l'anno in campagna e vedere il cambiamento che ogni giorno ha la luce del sole e anche la notte. Sento queste brezze che fanno muovere le foglie, gli odori, il canto degli animali. Sento che c'è un ambiente vivo che mi dà molta gioia di vivere. Sento che c'è un ambiente vivo. Sento che c'è un ambiente vivo.